Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Fantasy. Continuiamo a parlare della serie Fumetti Calia, edita da Bugs Comics, partorita dalla mente di Luca Lamberti e di Leonardo Cantone. Oggi parliamo del numero 15, Assalto al Varco, per i disegni di Dedonato. Sigla. Scusate se questo numero esce con estremo ritardo, penso che domani esca il numero 16 di Calia con tutta probabilità, però appunto, come ho detto già negli altri video, questo video è stato rimandato un po' per altri video più urgenti e un pochino perché non avevo ancora letto il fumetto, forse perché i primi due numeri post prima stagione, chiamiamola così, mi erano sembrati molto Game of Thrones, molti intrighi politici, quindi non tanto high fantasy, cose che mi piacciono ma non tantissime, io preferisco il fantasy più fantasy, più fantasioso. Questo numero che pensavo continuasse, ci lasciasse continuare dalle macerie di quello che è successo nel numero scorso, invece prende una virata diversa, comunque tenendo conto di quello che è successo nel numero scorso, e direi che si punta tantissimo al fantasy e al colpo di scena. C'è qualcosa a pagina 11 che mi ha davvero fatto saltare sulla poltrona, a parte che ormai è uscito da un po', quindi possiamo fare tranquillamente spoiler. Il numero inizia appunto con Lena e Velrik, che sono alla piana di Oburg, stanno un attimino cercando di raccattare i pezzi, i cocci di quello che è successo nel dodicesimo numero, nella battaglia finale tra Kalia e il Morbo Pallido fondamentalmente, e una cosa che nessuno di noi ci si aspettava, perché sì, noi abbiamo capito che Kalia è morta ed è rinata a nuova vita, grazie al potere di Malkuth, del fondamento che può generare la materia organica, ma nessuno di noi si aspettava che ci fosse il vecchio corpo di Kalia, ancora col braccio tagliato alla Luke Skywalker, trovato lì da, diciamo, mi viene da dire dagli scienziati, ritrovato lì dagli alchimisti del regno, è stata una cosa che mi ha stupito molto, credo che questo corpo servirà in qualche modo in futuro, non vedo l'ora di vedere perché lo hanno messo, perché se lo hanno messo c'è un motivo e non vedo l'ora di scoprire qual è. L'altra cosa invece che appunto, dicevo, si ricollega a quello che è successo nel numero scorso, c'è stato un attentato, un'esplosione, ci sono dei, diciamo, degli intrighi che vogliono, fanno di tutto per portare alla guerra a causa anche dell'esile alchimista che si scopre, è questo Gialdest che si ha pure tagliato le corna per potersi mimetizzare meglio, perché già di suo è nato piccolino e senza poteri e quindi per miscolarsi meglio con gli umani è diventato nella prima stagione, chiamiamola così, il consigliere l'eminenza grigia dietro all'elfo Varnon che voleva appunto guarire solo la propria razza elfica dal Morbo Pallido e qua invece poi pare sia anche consigliere di questa nazione che si scopre anche dalle parole del cronista è la nazione che fondamentalmente sosteneva Amon Rat, non so come si chiami, comunque il Gialdest che fu un despota e venne appunto poi cacciato e da lì venne creata la grigia mattanza, cioè questa, diciamo, purga razziale dopo che il Gialdest aveva governato in modo dittatoriale qualcosa tipo 500 anni prima. ci sono ancora i rimasugli, ci sono ancora i nostalgici di questo despota che è strano dato che sono passati 500 anni, cioè non come 70 anni, 80 anni come nel mondo reale dove ci sono ancora i nostalgici di quel periodo perché lì è normale, però, no, sto scherzando, non è assolutamente normale è come sostenere i guelfi e i ghibellini. Qua addirittura, sono passati 500 anni, c'è ancora chi è nostalgico di quel periodo e fa molto molto strano. Il paragone che c'è stato in Calia con la pandemia, che non era assolutamente voluto come ci hanno rivelato gli autori, sta continuando ad andare avanti perché dopo una pandemia scongiurata scoppia la guerra e esattamente come è successo purtroppo anche nel nostro mondo, nel mondo reale. Dopo che il Covid-19 è stato scongiurato, ecco che sono partite le guerre. Prima in Russia, adesso c'è stata l'ennesima... l'ennesimo protrarsi della guerra israeliera-palestina che va avanti da... anche quello da 70 anni e anche qua nel regno di Theia è bello come ci sia questa metafora, come ci facciano capire che tutto il mondo è paese, sfortunatamente tutto il mondo è paese. È molto carino che con un po' di fantasy magari possano, che ne so, invogliare anche i ragazzi più giovani che leggono a interessarsi all'attualità. Questa è... non so se è un obiettivo voluto, ma se raggiunge lo scopo ben venga. Ripeto, l'effetto wow c'è tantissimo in questo numero, i disegni mi piacciono un sacco, soprattutto i primi piani di Lena. Io Lena non l'ho mai apprezzata tantissimo esteticamente, in questo numero è stupenda, ha uno sguardo fantastico e disegnata da Dio. Poi, non lo so, cavalli che sbucano dallo schermo, Lena e Valrica che escono dalla piana di Obur e sembra che si avvicinino, che escano dal fumetto. Una bellissima carrellata verso il basso di un paesaggio, non mi ricordo se era al Varco o comunque in un altro posto di Theia, ma davvero belli 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 disegni. La creazione del Golem, molto Attack on Titan, però è normale che la mente vada lì quando si vede una bestia del genere sfondare un muro, però davvero molto molto entusiasmante dal punto di vista dell'azione oltre che della storia. Sono molto molto contento di aver letto questo numero, mi ha fatto venire molta più voglia di continuare rispetto alla parte un po' politica dei numeri scorsi, che però ci vuole, perché se no è semplicemente un film di Michael Bay, altrimenti. Comunque, questo despota che ho nominato all'inizio, lo si era già visto in un altro numero, è ancora vivo per qualche ragione. A quanto pare si capisce da questo numero che è tenuto in vita grazie all'alchimia, grazie alle rune, ma è davvero... siamo ai livelli di Robocop, come pezzi residui di quello che resta di lui. Quindi vedremo cosa succederà e perché proprio hanno voluto tenere in vita questo despota e non, che ne so, una linea di sangue, no? Perché hanno proprio voluto tenere lui in vita. Mi piacerebbe scoprire appunto questo nei prossimi numeri. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero di Kaya. A me è piaciuto molto. Prima ho parlato di giovani che leggono Kaya. Io spero ci siano. Purtroppo il brutto dei fumetti, soprattutto quando si acquistano in edicola, è che non si ha un riscontro di fasce d'età. Quindi se voi volete scrivermi qui sotto se leggete Kaya e quanti anni avete sarebbe molto interessante vedere se il pubblico giovane si sta affacciando a Kaya. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Arrivederci.